Oltre che sia un piacere suonare con questi ragazzi che erano in bella, non è neanche troppo vero, non è neanche troppo vero, comunque sono dei grandi, dettagli anche di noi. Vi chiamiamo un'altra sul palco ancora? Sì sì, non siamo abbastanza sul palco, non si può dire che non vi diamo il valore del vostro biglietto. Devo dire che girando molto con Dallieri e con i palestini, una cosa bella che dicevo prima è conoscere gente nuova e di vedere il palco con altri musicisti, spesso nella tua età, spesso più giovani, spesso più grandi e sempre più grandi, perché ormai andiamo avanti così. Però insomma fra le varie conoscenze che abbiamo fatto... Tutte le volte andiamo a stare in Sicilia, ultimamente ci facciamo aprire i nostri concerti da una band di Palermo che si chiamano The Cliffs, le scogliere, e una band... Come? Siciliano. Siciliano, no, penso sia in inglese, mi sa. E una band molto valida, capitanata da tre ragazze... Ah, no, più di tre ragazze, insomma, Alvorino alla chitarra, e ci siamo portati qua, è volata qua da noi la cantante, Chloe, Claudia Sala, che sia raggiunto sul palco, faccio un bel applauso. Adesso non voleva cantare, non voleva cantare, non voleva cantare. Quando c'è l'alice, le ho detto, beh, che ne avviene in concerto, ma il palco di un pezzo è un bel applauso. Se me la abbia una che non stira indietro, mi farà sentire una bellissima voce. Buonasera a tutti, innanzitutto... Passo il microfono perché tra me l'alice c'è un po' di differenza. Buonasera a tutti, ringrazio anticipatamente sia Frida che Alice e anche appunto il bellissimo ragazzo. Eh, non ce l'ho da dire. No, 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 assolutamente. Mi sono accorto che tra Torino e Milano i ragazzi sono abbastanza carini. Mi sa che devo fare un trasferimento su. Esatto, esatto, esatto. Ok, allora il primo verona che vi facciamo ascoltare è Molly Malone. Il secondo è sorpresa, facciamo così. Ok, ok. Ovviamente anche lì, io Nick l'ho conosciuto oggi e Daniele anche, quindi non abbiamo fatto chissà quale prova, insomma. Però siamo messi oggi pomeriggio d'accordo sulle svanità, sull'arrangiamento, sulle strutture e il risultato è questo che sentite. Un, due, tre, un, due.. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.